Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo parlare della differenza tra una Sony VTC5 originale e una falsa Questa che ormai mi sono rotto le scatole di vedere post su post che dicono Ah, lo svapo fa male, attenzione, vi scoppiano le batterie in mano, vi scoppiano le sigarette elettroniche in mano Cioè, è una cosa assurda, ragazzi, quindi adesso vi faccio vedere, dovete stare molto attenti ragazzi a queste cose Perché uno alle volte si fa prendere un po' in giro, magari perché vede il prezzo basso O comunque si fida, dice, ah ok, sono quelle originali e le prende Vi farò vedere con attenzione quali sono le differenze tra un originale e una falsa cinese Andiamola a vedere nel dettaglio Adesso vi farò vedere nel dettaglio la differenza tra un originale e una falsa Guardate bene, in basso è quella falsa, cioè quella originale, in alto è quella falsa Intanto partiamo dalla scritta La scritta di quella originale, quindi in basso Vedete che intanto la linea, diciamo, è più attaccata Non c'è troppo spazio tra la prima riga di sopra e quella sotto Invece in quella falsa c'è più spazio Poi, un'altra cosa, il codice QR Il codice QR, come vedete, è molto diverso Sopra è più puntinato Sotto è leggermente più compatto Cioè questi puntini sono più compatti Un'altra cosa è la scritta RU Quella originale è più larga La scritta, cioè più grande In quella falsa è più piccola Vedete? Sotto il polo negativo La plastica della wrap Intanto è più spessa E poi C'è meno plastica nel bordino Di qua Praticamente Vediamo il pin C'è il polo positivo Poi Questo è quello dell'originale E questo è quello falso Quello falso è più rugoso Più ruvido al tatto Quello originale è più liscio Cambia anche il cerchietto C'è la rondella di isolamento E l'attaccatura della wrap Se vedete qua c'è più bordo Qua ce n'è di meno Questa è quella falsa Cioè se uno non ha occhio Così al primo colpo d'occhio Sembrano entrambe originali Poi un'altra cosa La scanalatura Questa è quella dell'originale Quindi Si vede Che c'è poco spazio Tra una scanalatura e l'altra Qua si sono quasi attaccate Invece in quella falsa La scanalatura È proprio qua Bella marcata Un'altra cosa Che si nota In quella originale C'è scritto Do not use Outside of battery pack Nella falsa Non ci sta scritto sta cosa Quindi ragazzi Mi raccomando Fate molta 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 Attenzione Quando andate a comprare Una batteria L'ultima cosa Non so se si vede bene Dalla fotocamera C'è dalla videocamera Ma Come possiamo vedere Messe tutte e due Allo stesso livello Quella falsa È leggermente più alta Vedete È una cosa Proprio millesimale Ma Fa comunque la differenza Quindi io non l'andrei mai Utilizzare Su un tubo meccanico Su una box meccanica Questo è poco Ma sicuro Ragazzi Per questo poi Succedono le cazzate Dice Ah è saltato Scoppiato un tubo In faccia di un ragazzo Nelle mani Comunque Eccetera eccetera Si deve fare molta Attenzione Non è l'unica cosa Da tenere Comunque in considerazione Quando si utilizza Una mod Meccanica Ma Questa influisce Molto Ragazzi Prendete soltanto Batterie originali E potete stare Già Metà tranquilli Diciamo Quindi Originale Falsa Talla cosa che vi ho elencato La scritta Alfa numerica Il codice QR In quella falsa è più piccolo In quella originale È più largo È più grande Cioè la scritta RU Il codice QR Volevo dire Quello originale È più Compatto Invece di là È più puntinato Vedete Il polo positivo Abbiamo visto le differenze E anche se la giriamo E anche se la giriamo nel polo negativo La lunghezza Vedete La lunghezza E le scanalature In quella originale Sono più attaccate Le scanalature In quella falsa Sono Più staccate Ragazzi Detto ciò Vi ho fatto vedere Le differenze Importanti Che ci sono Tra una batteria originale E una falsa Un consiglio Che vi posso dare È sempre Di acquistare In negozi Fisici Di fiducia Comunque persone fidate Oppure su internet Se vi trovate a fare un acquisto Dovete sempre informarvi Se sia originale O falsa E quando ve la trovate in mano Vedete quelle differenze Io purtroppo Questa qui L'ho presa In un negozio di informatica Che non ha niente a che vedere Con C'è shop Fisici Di sigarette elettroniche Importanti Che ci sono Nella mia zona C'è Da qui Io mi rifornisco Spesso Per giunta Me l'hanno spacciata Anche per originale Quando gliel'ho chiesto Sì sì Originale Quindi state molto attenti Ragazzi Detto ciò Spero che Insomma Vi Vi sia utile Questo ragionamento Che vi ho fatto Tutte queste differenze E quant'altro E vi do appuntamento Al prossimo video Vi saluto Se vi va Lasciate un mi piace Commentate pure E iscrivetevi al mio canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi